Talent Garden, piattaforma europea per i talenti del digitale, compie sei anni e l'ifestede al campus di Milano Calabiana con battaglie di robot, gare di droni, esperienze di realtà virtuale e altre sorprese ai tech. Talent Garden è uno spazio fisico dove i professionisti della tecnologia, della creatività possono connettersi e lavorare. Conta 18 campus in sei paesi europei e 1900 tra start-up e imprese liberi professionisti, oltre a un team di 70 persone composto per oltre il 60% da donne. Il network, oltre a semplice co-working, offre anche formazioni sui temi del digitale e una serie di eventi per connettere imprese e territori con l'innovazione.